La rete radio azzurra presenta Afro Raduno, l'originale, il primo progetto di musica ad alta definizione. La musica afro, come non l'avete mai goduta. La musica afro, come non l'avete mai sentita. Sabato 31 ottobre, dalle 23, Corte dei Giganti, a Montichiari Brescia, di fronte all'aeroporto. Non puoi mancare, perché è un appuntamento da Io C'ero, a rete radio azzurra, forever. Perché il mito non muore mai. La prima e l'unica radio afro in Italia. Grazie Grazie a tutti.